Sono scattate dopo gli attacchi terroristici in Francia e in Belgio come il blitz alla sede del giornale satirico parigino Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015 e l'attentato al teatro Bataclan del 13 novembre 2015. Le indagini che hanno consentito di individuare e sgominare con 14 misure cautelari l'organizzazione criminale che a Napoli favoriva l'immigrazione clandestina producendo, dietro compenso, documenti falsi per ottenere i permessi di soggiorno per l'Italia e quindi anche per gli altri paesi dell'area Schengen. A coordinare le indagini è stata la procura di Napoli che contesta anche il reato di corruzione. A capo dell'organizzazione c'era un pakistano, proprietario anche dell'internet point sequestrato, per il quale è stato disposto il carcere e un marocchino per il quale il GIP ha disposto i domiciliari. L'organizzazione si estendeva oltre i confini italiani. Gli indagati erano infatti in contatto con persone residenti in Belgio e Francia. La documentazione falsa per i permessi di soggiorno stampata a Napoli veniva anche fatta per venire a persone residenti in quei paesi. Ovviamente tutto dietro compenso. La base dell'organizzazione era stata collocata nell'internet point del pakistano.